Giordano, Giordano, grosso di Giordano, ancora una volta difesa, Coggiana poi difficoltà, resta, 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 mantiene la palla in campo, spinta su Rizzi, calcio d'angolo per in alto, quarto calcio d'angolo per in alto. Rizzi, calcio d'angolo per in alto, quarto calcio d'angolo per in alto, quarto calcio d'angolo per in alto, si ripensa, palla in area, niente da fare, ancora una volta, è la difesa che riesce ad arrivare prima ed è il quinto corner per il Nardone. Cade, cade Corvino, scivola, Poggia se ne va in contropiede, con Pierchio ma basca, non si fa sorprendere, va la Mirarco che rilancia, di testa rescio ma Corvino... ...